Musica Con l'associazione Permitto facciamo questo concerto, opera prima di Ruggero Lagana. Raymond Quenot ha scritto questi 99 esercizi di stile che sono delle variazioni su un piccolo racconto. Il primo di questi racconti è banalissimo e proprio nella sua banalità, semplicità, la fragura, il virtuosismo dello scrittore è stato quello di modularlo in 99 modi diversi. Musicalmente ho cercato di fare la stessa cosa, per me è stato molto divertente, è anche un po' difficile, però alla fine mi ha molto stimolato. E man mano che mi venivano le idee aumentavo gli strumenti, erano partiti da 15, sono arrivati 30, 40, adesso siamo sulla 60. Questa volta ci saranno anche dei cantanti e altre sorprese che non voglio anticipare. Grazie. Buonasera, benvenuti. Porto il saluto del nostro sindaco Roberto Di Stefano. Oggi è un bel pomeriggio musicale, un pomeriggio culturale che abbiamo patrocinato molto orgogliosamente. Io vi ringrazio e vi auguro una buona serata. Grazie. 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 Un giorno d'estate, tra genti, vestate come patate su auto non private, vedo un ebete. le gote devastate, le nari dilatate, i denti alla colgate. A che ora nel giorno in oggetto è passato l'autobus di linea S previsto per mezzogiorno e 23 in direzione porta di Champerey? A mezzogiorno e 38. Dopo un'attesa repellente sotto un sole ignoble sono finito su di un autobus immondo infestato da una banda di animali puzzolenti. Grazie a tutti.